Quali sono le cose a cui tieni di più? La tua famiglia, la tua casa, i tuoi beni, le tue passioni. Metti al sicuro il tuo mondo con AssiSolution di Laganan Tonino. Scopri la nuova offerta Casa Senza Confini di Grupa Ma per proteggere tutto quello che hai nel cuore. Vantaggiose offerte su polizze assicurative vita, infortuni, malattie e sconto del 40% sulle polizze auto. AssiSolution. Assicurazioni Grupa Ma. AXA. Allianz. Amissima. In via Filippo Turati 58 a Melito Porto Salvo. Info allo 0965 16 50 653 o 377 40 52 126.